Grazie. Ho voluto cominciare con un esempio di che cos'è, da cosa nasce figli non uguali a genitori, questo progetto nasce da un'idea che mi è venuta durante il lockdown, io sono una performer, una ballerina, nasco come una ballerina e dal 2016 ho un'associazione, ho fondato un'associazione che parla di talento improbabile, supporta appunto tutta una serie di argomenti e realtà sociali importanti dal mio punto di vista e quando rimango incinta di quello che è nostro figlio Cesare un anno e mezzo fa, appunto quasi due, ritengo che sia molto importante cercare di capire come anche da genitori realtà sociali importanti come quello della differenza, in questo caso del colore di pelle, della religione, dei gusti sessuali, siano da imparare attraverso storie reali di persone che hanno una vita, una vita intrecciata, qualche volta più complicata, complessa e che abbiano, che hanno voglia di condividerla per far sì che ci sia una sorta di guida al figlio nel mezzo, le abbiamo chiamato così, del futuro e ai genitori di figli nel mezzo del futuro. Quindi abbiamo insieme all'associazione, allo staff dell'associazione abbiamo creato un format online che parla di, in questo caso, 12 storie tutte diverse tra di loro, come quella di Jennifer che è mia sorella e sperando che alla fine di questa storia, di queste storie ci siano degli strumenti utili da potersi portare a casa, da poter utilizzare a scuola, nella vita di ogni giorno, quando vado a fare la spesa, anche perché non so quali di questi argomenti un giorno dovrò affrontare con mio figlio, magari quello del colore della pelle, ma magari quello di tutt'altro e volevo essere preparata. Quindi il format è diventato questo, poi è diventato anche un panel, quindi una sorta di una discussione dal vivo ed è quella che oggi vi proponiamo. E quindi siamo qui ad ascoltare un po' di storie, un po' di storie di genitori, un po' di storie di figli. Chiaramente è un espediente quello di dire che i figli sono diversi dai genitori, e probabilmente è sempre così ed è anche una fortuna, come diciamo prima con Elena, la direttrice del circolo. Però questa sera innanzitutto ringraziamo moltissimo gli ospiti per aver accettato il nostro invito e partirei, Luciana, partirei da una cosa che dice Jennifer in maniera molto chiara nel suo video. Lei dice, io quando ho deciso di stare con Rosaria, che è la mamma di Lidia, ma che non è... Wow! Eh, ma già tu con la tua voce timbrata era come se usassi il microfono. Adesso veramente ci fai venire i brividoni. È di nuovo andato via, è sparita di nuovo. È perché era tanto, non eravamo pronti. Dice, quando decido di stare con Rosaria, per me, io la riconosco subito come madre. Ognuno qui ha storie diverse questa sera, tu più o meno si sa, l'hai raccontato più volte, però tu hai una coppia di fratelli in affido da tanti anni. Adesso non sono più in affido perché uno ha 27 anni e l'altro ne ha 25, quindi... Sono affidati a loro stessi. Sì, ormai sono maggiorelli. Tu quando hai avuto la sensazione che loro a un certo punto ti riconoscessero come mamma, semmai è successo? Ma da subito, e io non ero pronta, nel senso che... Sai, diventare madre a un punto ne avevo 42, non è proprio semplicissimo, tra l'altro di due è già grande, uno di 9 e l'altro di 11, quindi quando sono arrivati, bene ma non benissimo, cioè ci ho messo un po' di tempo. Invece loro volevano proprio quello, volevano una famiglia, volevano la camera, la cameretta, volevano una mamma, volevano un papà, volevano tutto, tutto, e io non mi sentivo adeguatissima, poi volevo fare le cose bene, volevo essere una brava mamma, meglio di quella prima, una pazza, e quindi ascoltavo, non so chi ti diceva bisogna far così, bisogna far colà, bisogna la merenda, devi preparare la merenda, cosa gli dai, no, quelli sono pieni di grassi saturi, devi fare la torta, col bimbi, mi sono comprata il bimbi, e la torta di pane, venivano delle merde senza senso, e poi non bisogna dire le parolacce perché io ho attenzione, una fatica tremenda, poi quando ho capito che dovevo fare la madre come sono, cioè nel bene e nel male, allora mi sono tranquillizzata, però per loro invece era finalmente arriviamo in una famiglia, tant'è che quando abbiamo fatto i primi incontri, ovviamente non sono arrivati subito, siccome erano grandi e l'affido prevede anche dei, tu anche hai fatto l'affido, dei colloqui, no, e quindi una conoscenza, e anche il bambino deve decidere se si trova bene in qualche modo, e quindi abbiamo fatto i primi colloqui, e poi per tutta una serie di gabole burocrati che per un bel po' non siamo più andati, e allora Jordan diceva, ma quei due là, diceva all'educatore, ma quei due là che fine hanno fatto, no, perché se no io mi trovo un'altra famiglia in piscina, e diceva, quindi era ben determinato a uscire da lì, quindi una famiglia valeva l'altra, l'importante è avere una famiglia, una mamma è un papà, fine. Visto che citavi Nicolò, Nicolò Agliardi ha un'esperienza di affido simile, ma diversa, perché banalmente tu non hai una compagna, non hai una moglie, quindi tu hai fatto, io ammetto che quando tu me l'hai raccontato, io mi sono stupito del fatto che si potesse chiedere un ragazzo in affido da single, si può fare, evidentemente, qual è il percorso e qual è la tua storia Nicolò? Sì, buonasera intanto, sì sì, io ho scelto deliberatamente, nonostante avessi un amore in quel momento, di procedere nella richiesta di diventare genitore affidatario da solo, perché mi rendevo conto che stavo per compiere con enorme incoscienza un passo che mi avrebbe portato a una coscienza, e in quel momento credevo di potermi asserire l'unico detentore di quella volontà. Io sono papà due volte, perché io ho avuto due esperienze di affido. La prima, lo dico con un po' di pudore, ma è stato un affido, è stato un fallimento, perché capita anche questo nella letteratura degli incontri e dell'accoglienza, nel senso che la mia storia sembrava poter mecciare, questo è il termine che viene utilizzato dagli esperti di settore, con la storia di un ragazzo che stava per uscire dalla comunità, perché stava per compiere 18 anni, e dunque la comunità dei minori, naturalmente era pronta a lasciarlo andare, e che questo ragazzo non aveva né un papà né una mamma presenti, quantomeno non avrebbe avuto un tetto, non avrebbe avuto un lavoro, non avrebbe avuto il denaro, e dunque mi hanno detto ecco la storia, io avevo tutto quello che a lui mancava, ho detto va bene proviamo, ma ho voluto provare a chiamiamolo Federico, anche se non è il suo vero nome, ancora per rispetto, ma Federico è il protagonista di un romanzo che racconta la nostra storia, e quindi continuerò a chiamarlo Federico, e ho chiesto a Federico esattamente di che cosa avvesse bisogno, mi ha risposto non lo so, però uscire da qui, in questo mi ricordo un po' l'esperienza di Luciana, e quindi veramente in 4-4-8 gli ho chiesto che cosa gli piacesse da mangiare, che cosa non gli piaceva, e sostanzialmente gli piaceva solo la pasta al pomodoro e la fettina, perché era ciò che in comunità gli offrivano, l'importante che fossero senza cipolle, questo è stato l'unico nostro patto d'acciaio paradossalmente per diventare una famiglia, non lo siamo diventati, io non sono mai stato il suo papà, e lui non si è mai considerato mio figlio, e quindi anche questo è servito a capire che forse in quel momento io non ero pronto a quel tipo di ruolo. Però ragazzo ha quasi 18 anni, c'è una roba complicatissima. Mi era stato avvisato, insomma mi avevano informato che sarebbe stata un'impresa abbastanza ardua, e ho dovuto a un certo punto agire in maniera molto cruda, anche molto forte, l'ho dovuto proprio mettere alla porta, laddove la grammatica degli affidi prevede proprio che i ragazzi ti spingano e ti portino fino a quel punto per vedere se sei in grado di reggerli, se sei in grado di non abbandonarli anche tu. Io per tanti mesi dicevo a Federico, guarda che più tu fai così, più io non me ne vado. Ma siamo arrivati ad un punto dove io stesso non potevo essere abusato, passatemi il termine violento, ma di quello si trattava. E quindi mi sono sentito male, mi sono sentito rotto, mi sono sentito sbagliato, incapace, come potete immaginare che uno si possa sentire, ma forse anche da genitore biologico talvolta accade questo con i ragazzi, con gli adolescenti. Poi dopo sei mesi, dove Federico è scomparso dalla mia vita, dalla vita degli assistenti sociali, dalla vita delle forze dell'ordine, dalla vita del comune, di residenza, insomma da qualunque istituzione più o meno sentimentale o più o meno giuridica, un giorno torna da me e mi dice sto bene, sono a posto, volevo solo dirti che non ti dimentico e che tu sei pronto per essere papà. Sembra una sceneggiatura di un film da Rai 1, ma non è cosiddetta. No, che erai 1, non è meglio. Erai 3. Beh, ma non avevo nessuna intenzione di diventare papà biologico, insomma non avevo nemmeno la materia prima, anzi no, non è il caso di dire materia prima in quest'epoca, non avevo nemmeno una compagna per poterlo diventare. Noi non l'abbiamo fatta una prima. Però nemmeno lei aveva la materia prima, paradossalmente. Cioè se c'era una lega. E che cosa gli mancava tra l'altro. E vabbè, per farla molto breve la vita poi ha delle strane circonvallazioni, dei strani destini e quindi due settimane dopo questa strana dichiarazione di Federico arriva una telefonata da parte di una fondazione molto capace, con persone molto preparate che mi chiedono se mi sono un po' rimesso in sesto e io avevo ancora delle ferite abbastanza sanguinanti e ho detto ma insomma in sesto per quanto si possa rimettersi in sesto dopo una guerra del genere. E loro mi hanno detto vabbè preparati perché c'è un'altra storia. Ovviamente la mia prima risposta è stata non se ne parla neanche, per fortuna esistono dei santi, terapeuti, psicologi che mi hanno informato su una banalissima questione che è la seguente. Non si prendono decisioni quando si ha la febbre, nel senso che se c'è una festa tra due settimane e tu hai la febbre non per forza devi dire sì o no in quel momento perché in quel momento non hai voglia ma quando ti passerà la febbre potrebbe anche darsi che a quella festa ci andrai. Insomma io a quella festa sono andato e ho trovato un ragazzo che la prima cosa che mi ha detto dopo due minuti è che sei pelato, lo sapevo, non so in base a che cosa l'avessi deciso. La seconda è che vorrei che tu fossi il mio papà e io sono diventato il suo papà. Questa è la mia storia. Elena, io vorrei andare un pochettino sul tecnico, non troppo, vorrei che ci raccontassi la tua, la vostra storia e poi vorrei che mi parlassi di una questione che mi hai già accennato della realtà del contatto con la pelle dei tuoi figli, delle tue figlie. Cosa succede quando in questo caso tu hai adottato due bimbe, non hai quel contatto a pelle che ti, diciamo, le ostetriche in ospedale ti indicano di fare per iniziare fin da subito ad avere un bond, avere un legame? Come lo crei quando, diciamo, arrivi mezzo step più tardi. Allora, io intanto vi ringrazio moltissimo per questa occasione, per questa opportunità di raccontare la mia storia. Io sono una mamma adottiva e quindi la storia è un po' diversa rispetto al percorso dell'affido. Tutto è nato dal fatto che con mio marito abbiamo scoperto di non riuscire a generare, di non riuscire a essere, come dire, una mamma e un papà biologici, no? E tutto è nato dal fatto che abbiamo scoperto, io ho scoperto in particolare, di non, che non avrei avuto una pancia. Questa cosa la dico proprio con grande sincerità. Penso che sia un'esperienza che capita a tante donne, che può capitare, ed è la mia storia. Io la pancia un po' la sognavo e la desideravo. Mi immaginavo con un vestito a fiori che, come dire, avrebbe avuto questa forma bellissima della pancia. Mi immaginavo mamma così e con un volto un po' trasformato anche dalla gravidanza. Questa cosa non è arrivata e quando abbiamo scoperto che non sarebbe arrivata, penso che appunto può essere un'esperienza di tante donne che magari anche semplicemente non desiderano avere questa esperienza. Quando abbiamo scoperto di non riuscire a diventare genitori biologici abbiamo scelto da subito la strada dell'adozione, ci sentivamo molto vicini a questo percorso, a questa possibilità. E questo insomma significa un lungo percorso di colloqui, di incontri con i servizi sociali, con psicologi, con i servizi, con gli assistenti sociali che ti interrogano, che ti chiedono se sei pronto ad affrontare questo percorso. E alla fine poi, lo saprete, l'adozione prevede dei tempi diversi. Per la mia prima figlia è stato tutto molto molto rapido, eravamo piuttosto giovani e il Tribunale per i minorenni di Milano ci chiamò che c'era una bambina di soli 20 giorni che ci aspettava in ospedale. Insomma potete immaginare siamo diventati genitori nel giro di 24 ore, perché la telefonata è arrivata e l'indomani siamo andati a conoscerla in ospedale. Pesava 2 chili e 950 grammi, era piccolissima e non era proprio come dire l'idea della bambina o del bambino che avevo in mente, perché avevamo iniziato questo percorso dell'adozione immaginando anche un bambino diverso. E questa invece è stata la nostra chiamata, la nostra storia e il nostro incontro. Però per rispondere alla domanda di Lidia, Elisa, questo è il nome della mia bambina, aveva una grande voglia, una grande desiderio. Questa è Nina e questa è la seconda, ma la prima, ecco questa è Elisa, qui eravamo in ospedale quando l'abbiamo conosciuta, questo è mio marito. Abbiamo provato a riprodurre e a generare quel contatto che non avevamo potuto avere, quella pancia che io non avevo avuto e quindi abbiamo provato a ricrearlo. Lo psicologo dei servizi sociali mi consiglio di sperimentare il massaggio Shantala, non so se lo conoscete, il massaggio neonatale, è un massaggio ayurvedico che permette di ricreare proprio nei nove mesi successivi alla nascita di un bambino il contatto fisico. Ci dovrebbe essere forse un video. Stavo per chiedere il video di Elena. Non è questo. No. In ogni caso ho imparato a svolgere, a fare questo massaggio e il fatto di vivere questa esperienza di contatto, di calore, di... è lui. Ecco, questa è Elisa e questa sono io. E questa è stata la nostra esperienza di contatto. Attraverso questa manualità che durava circa 30 minuti, noi ci siamo amate, toccate e abbiamo ricreato quel contatto pelle a pelle che con la gravidanza non avevamo avuto. Lo abbiamo vissuto all'esterno anziché all'interno. Però devo assicurarvi che nei nove mesi in cui lo abbiamo praticato, dopo ogni bagnetto, è stata un'occasione, un'esperienza di visceralità, di profondità, di... Lei è eccitatissima da questa cosa. Lei era felicissima, lo amava. Ed è stato proprio istinto. Ecco, lei non è che ne avesse altro se non per una percezione tattile, no? Fisica. Per noi questa cosa effettivamente ha ricreato la gravidanza che non abbiamo avuto. Invece la seconda, hai detto che ha avuto tutta una sua... L'esperienza è completamente diversa. Nina aveva due anni, siamo andati ad adottarla in Vietnam, a conoscerla in Vietnam. L'incontro è stato con lei più grandina. E invece Nina si è proprio presa la gravidanza che non ha avuto, l'esperienza che non ha avuto. Per cui ogni volta che io la prendevo in braccio con me, lei puntualmente entrava dentro la mia maglietta. Quindi si arrampicava sul mio braccio e poi entrava dentro la mia maglietta. Ho rovinato decine e decine di maglie, di felpe. Lei praticamente entrava dentro di me e poi usciva dalla parte inferiore della maglietta, simulando un pianto di un neonato, ma una cosa che ha voluto fare lei, che non ho provocato, che non abbiamo indotto in nessun modo e che però psicologicamente per tutti i mesi in cui lei questa cosa ha fatto, ha cercato, l'ha aiutata moltissimo e che ci ha permesso di rivivere quelle che non abbiamo vissuto. Grazie Elena. Io chiuderei il cerchio e passerei all'unica figlia che è presente in questa chiacchierata. Sabrina Fionai è autrice di un libro e di un podcast bellissimi che si chiamano Storia del mio nome e racconta la sua storia che adesso le chiediamo e che io sintetizzerò malamente dicendo Sabrina tu hai due mamme, giusto? È così. E la cosa di cui parlavamo poco fa a cena è che le chiami entrambe mamma, però in maniera diversa. Ci racconti un po' la tua storia? Certo, sì. Tra l'altro dire innanzitutto buonasera a tutti e tutte e grazie tantissimo per l'invito. Sono molto molto emozionata perché ogni volta che devo parlare di questa questione delle due madri devo fare un passo indietro che è grande ai 23 anni perché tutto ha inizio quando io ero così tanto piccola da non averne memoria. E molto spesso quando vengo presentata con la questione delle due madri, questa è una cosa che ho scoperto anche grazie al meditore sette anni fa, quando firmai il mio primo libro mi presentai in casa elettrice con entrambe le mie madri e lui per 5-6 anni ha pensato che io avessi una famiglia arcubaleno, quindi due mamme che stavano insieme. L'ho pensato per anni, non mi faccio di chiedermelo, dirmelo, ma in realtà no, era una questione forse con molti più strati perché io ho una madre nigeriana che si chiama Gladys e che io chiamo mamma ma in inglese, a volte mommy, mom, e una madre italiana, napoletana, che si chiama Antonietta e io ho sempre chiamato solo ed unicamente mamma. Io nasco a Castelvulturno, un paesino in provincia di Caserta e la mia storia è impossibile da scollegare da quella che è la storia di mia madre Gladys, di quando lei arriva in Italia che è molto più piccola di quanto lo sono io oggi, oggi ho 23 anni, mia madre arriva in Italia che ha 18-19 anni ed è stata purtroppo vittima della tratta della prostituzione e quando scopre di essere incinta e nel frattempo viveva un po' tutto quel macigno lì decide di fare questo enorme gesto di sacrificio e amore portando avanti la gravidanza nonostante lei sia stato quasi minacciato di non dover portare avanti la gravidanza, mio padre non era presente, non voleva che questa gravidanza andasse avanti dicendole che non ci sarebbe stato, però lei ha sempre avuto il desiderio e l'istinto di voler diventare madre, però al tempo stesso si rendeva conto che la sua prima figlia, la figlia che ha sempre desiderato e voluto, sarebbe cresciuta, nata e cresciuta in un contesto non adatto in alcun modo ad una bambina, ma lei ci prova, lo fa, porta avanti la gravidanza e più o meno io ho 11 giorni quando mia madre attraversa letteralmente la strada con me in braccio e mi lascia tra le braccia di un'altra donna che da quel momento diventa la mia seconda madre e prima sorridevo perché Elena diceva che ha avuto 24 ore di tempo per diventare madre ed è così sempre che ho descritto anche l'esperienza che ha avuto la mamma Antonietta, quando mia madre Gladys è arrivata da lei non è che mai l'ha chiamata prima, ci sono messe d'accordo, no, ha preso la bambina e ha fatto prendila in braccio, tienila e ha fatto ok e poi crescela tu, prendila tu e mia madre Antonietta mi dice che lei inizialmente la sera pensava che mia madre Gladys sarebbe tornata a prendermi che magari voleva lasciarmi lì solo qualche ora, invece quando giorno dopo giorno mi portava gli abiti, i fannolini, le creme si si era resa conto che stava diventando effettivamente madre per tanto tanto tempo, dire per sempre è un po' più dura nel nostro caso perché a differenza dalle altre esperienze che ho ascoltato, noi parliamo di un affido basato sulla fiducia, quindi non un affido legale o con tutte le pratiche burocratiche ma un affido basato su una fiducia che si divide tra entrambe, una fiducia che da una parte mia madre Gladys doveva fidarsi di questa donna che si era la sua vicina di casa, siamo state anche amiche per qualche mese prima però al tempo stesso era una persona che avrebbe tranquillamente potuto chiamare dei terzi e dire guarda che c'è questa situazione qui, io non voglio lavarmi le mani e quindi il rischio era alto che io mi essi portata via da mia madre Gladys per sempre, però al tempo stesso mia madre Antonietta aveva questi panni di una donna che diventa madre, ma una madre quasi un po' a tempo determinato nel senso che magari dopo 5-10 anni che tu cresci una bambina che hai avuto in braccio da quando aveva 11 giorni e da un momento all'altro la sua madre biologica torna e dice ok adesso riprendo mia figlia e la porto con me e tu effettivamente non c'è qualcosa che puoi dire o fare, no? Quindi sono stati meno o meno di 18 anni, mia madre Antonietta e mia madre Gladys hanno sempre vissuto un po' in questo limbo eterno, però al tempo stesso aver avuto due madri mi ha dato tantissimo proprio in termini di capire cosa significa lottare per tenere con te una persona e cosa significa chiamare figlio o figlia chiunque tu riesca ad amare immensamente e che se da una parte ci vogliono nove mesi per diventare madre, dall'altra parte ci vogliono nove secondi. Io lo chiedo a te però in realtà è una domanda che anche mi piacerebbe porre un po' a tutti voi, questo significa che qualcuno ha preso una decisione per te e una decisione che poi anni dopo tu rivedi anche in tante piccole e grandi cose che intaccano te, cioè tu devi vivere questa vita giusto? Quindi una decisione presa da tua mamma Gladys e un'altra presa da Antonietta, poi alla fine i conti ce li fai tu. Quindi con questa decisione tu come ci fai pace, come la affronti, come l'hai analizzata, cioè come la vedi la decisione presa per te da figlia? Ci sono per assurdo tantissime risposte diverse a questa domanda perché mentre mi veniva posta questa domanda in realtà io mi immaginavo tutto il percorso da bambina su come magari ad un certo punto avere, vivere in una famiglia italiana dunque una famiglia napoletana bianca era anche un po' un'arma di difesa dal razzismo che potevo provare, quindi diventava se sono stata affidata ad una famiglia bianca ma magari così posso essere accettata dagli altri, quando mi presentavo dicevo mamma io sono magari una bambina nera però sono adottata quindi sono come voi, una famiglia bianca, quindi da una parte l'affido quando ero più piccola lo utilizzavo come arma di protezione, crescendo magari già nell'età pre-adolescenziale invece mi rendevo conto che io subivo in maniera passiva quelle che hanno le scelte delle mie madri, in particolar modo il fatto che vivendo, cioè stando con mia madre Antonietta è visibilmente ovvio che io non sia sua figlia e quindi passavo sempre in secondo piano, le domande di base erano rivolte a mia madre, ah ma che bello vi state crescendo questa bambina, ma come, non tanto come è diventata grande, come siete stati bravi a farla diventare grande, chissà in altre mani, in altri contesti cosa sarebbe successo, quindi quest'idea, cioè questa idea non è un'idea, più questo contesto che si è creato soprattutto per quanto riguarda l'immagine che da fuori diamo io e mia madre Antonietta quando ho avuto un po' più coscienza delle cose un po' mi ha pesato, mi ha fatto sentire un'estranea, come se inevitabilmente fossi in credito, fossi in debito per questa cosa qui, come se dovessi a mia madre Antonietta la vita intera, che io le devo la vita per altro, non per il fatto che lei mi abbia presa con se mi abbia accolta, io le devo la vita perché mi ha amata, mi ha capita in tutti i 23 anni, cosa che invece io non sono riuscita mai a legare e creare con mia madre Gladys. Dall'altra parte invece il fatto che lei abbia preso questa decisione di lasciarmi con una famiglia bianca italiana è stato più che altro un vuoto, un vuoto che mi ha creato negli anni, ma che più che altro nel mio caso ha molto a che fare con la pelle, molto a che fare col fatto che io magari crescendo in un contesto, in una famiglia tra cugini, zii, parenti e nonni, tutti completamente bianchi, quindi tutti completamente diversi da me, non ho mai avuto il modo di potermi interfacciare con quella che era la mia nerezza, quindi in queste scelte di affido ci sono tantissimi però, ma al tempo stesso tantissimi contro che hanno a che fare nel mio caso strettamente con l'identità. Grazie. E Luciana invece per esempio la tua scelta, farla, pensarla prima è una cosa, poi diventa una realtà, c'è stato, si sono sposate l'idea e la realtà. Ma secondo me è tutto ancora in trasformazione, in movimento, sono esperienze difficili ma non impossibili e che si trasformano, sono impermanenti ma credo anche con i figli naturali, no? Poi voi state parlando di bambini piccoli, io e lui invece abbiamo avuto un'esperienza diversa con i bambini più grandi e proprio tornando al tema di questa serata che è anche la pelle, cioè avere a che fare con un bambino piccolo, hai proprio l'odore del neonato, che è una testolina che sa di latte, di frollino caldo, se ti arriva uno di 18... Puzza di piedi. Puzza, cioè, no ma vabbè, cambia, cambia totalmente. Ovviamente un bimbo di 9 anni, una bimba di 11, dopo un anno e mezzo, due, cominciano veramente a trasformarsi, a crescere e quindi anche la loro pelle cambia. E quindi c'è tutta una trasformazione che è repentina, mentre si ha il bimbo piccolo ci vuole un bel po' di tempo perché questo avvenga, no? Passano degli anni. Invece con l'affido di bambini grandi ti devi attrezzare quasi subito al fatto che diventeranno adolescenti molto presto e che comunque questa dimensione della pelle è una cosa con cui devi fare i conti, no? Devi riconoscere una pelle che è già grande ed è diversa dalla tua. E non è una cosa semplicissima perché non è soltanto una questione di colore, è proprio una questione tattile perché la pelle è appunto toccarsi, sentire gli odori, lasciar passare una cosa attraverso di lei, cioè è veramente un organo meraviglioso la pelle, è fantastico. E quindi è una cosa che tu devi fare lentamente e poi un po' la tua pelle diventa la loro e viceversa. Quindi c'è una sorta di transustanzazione, come dicono i preti, una roba così. Non so, un cambiamento, una cosa che passa da un'altra. E poi tornando alla pelle, per esempio, i miei figli hanno, attraverso la pelle, si raccontano, hanno sempre una, o si grattano, hanno gli ezemi, le allergie, tutte quelle robe lì che sono poi uno specchio di come sono dentro. Cioè sono dentro tormentati e fuori cominciano ad avere le grattarole. Mia figlia è allergica a tutto, qualsiasi cosa. si gratta, si scarnifica, mette gli orecchini che non sono d'oro, tempestati di diamanti, gli si staccano le orecchie. È una roba spaventosa. E quindi regolarmente andiamo dal dermatologo, che io penso che i dermatologi siano veramente una categoria meravigliosa, perché tutte le volte arriva della gente con della roba che loro guardano e dicono, ma che strano, non saprei. Non a caso è una scienza imperfetta. Imperfettissima. Allora devono avere quella che chiamano gli americani un quiet ego, cioè devono essere proprio tranquilli sul pezzo, orientati perfettamente. Quindi io regolarmente portavo mia figlia, che aveva tipo la schiena che sembrava una borsa di Alviero Martini, con le mappe, e lui la guardava e diceva, ma deve essere pitiriasi. E tutte le volte era una pitiriasi diversa, ma è sempre pitiriasi. E quindi anche, per esempio, mia figlia attraverso la pelle comunica tantissimo, cioè più incazzata, più inquieta, più si gratta. Invece lui è un po' diverso, lui ha fatto quello che fanno gli adolescenti, insomma quando, anche un po' più grandi, ha voluto tatuarsi. Che quando mi ha detto mi tatuo? Adesso arrivo a casa. con una carpa qua nella gamba, un dragone, già mi immaginavo che facesse i tribali come canta Elodie. E invece è arrivato, l'ha fatto il giorno del suo compleanno, quando ha compiuto 18 anni, cioè è andato da questo DJ bestia, come si chiamava, suo tatuatore. Alfio DJ bestia, arrivo a casa, io lo squadro con lo scanner, dico vediamo se nella pelle c'è qualche segno. Ma non mi sembrava niente di che. E poi si gira e vedo che c'è un tatuaggio qua all'attaccatura del collo. Però siccome sono miope, pensavo fosse un tipo un codice a barre, sai che a volte si tatuano delle cose che non hanno nessun senso. E invece, ahimè, no, anzi, mi avvicino e si è tatuato le date di nascita. La data di nascita di Davide, la data di nascita mia e la data di nascita di sua sorella. E quindi mi è sembrato bello, perché ha voluto sul suo corpo mettere un segno e mettere la famiglia. E ognuno questa roba qua la fa come può. E lui l'ha fatta così. Per me questo è stato veramente un bel segnale, anche un bel insegnamento. E quindi penso che, appunto, attraverso la pelle, soprattutto dei ragazzi più grandi, si scommettono e si passano un sacco di cose. Con loro è stato così e continuamente è così. A questo proposito, Luciana, visto che abbiamo parlato di contatto di pelle, beh, per Sabrina è stata data in braccio da bambina. Elena ci ha raccontato, ci ha fatto vedere. Invece per dei ragazzi adulti è una barriera la pelle anche, no? Cioè è un confine. Certo, è anche una difesa. Ci hai messo tanto a riuscire a rompere quella barriera. Tu sei una persona che tocca, che abbraccia. Non tantissimo, non tantissimo. Sono molto sabauda in queste cose, molto, no? Noi siamo un po' più così. Tu stai lì, io sto qui. Sì, però anche loro, soprattutto mia figlia, mia figlia è un po' più distaccata. Invece il maschio meno, ma il maschio era spesso malato, quindi era obbligata a toccarlo, a toccargli la fronte, a toccargli il petto, a bagnarlo e curarlo. Quindi con lui c'è stata più vicinanza di pelle, con lei meno, grazie a Dio, più sana. Però si grattava, quindi si occupava della sua pelle da sola, diciamo. E però c'è voluto, sì, c'è voluto un po' di tempo. Però l'ho trovato anche una cosa naturale, normale. Cioè ci vuole un po' di tempo. Non è che tutto è così immediato, no? Bisogna fare un cammino, come in tutte le cose della vita. Pian pianino si impara, perché loro insegnano a noi, noi insegniamo a loro. Quindi è tutta una questione di vasi comunicanti. Però appunto non è immediatissimo, soprattutto con i bambini più grandi. E non lo pensavo così. Invece avviene, perché è una cosa, credo, abbastanza normale. Ci vuole un po' di tempo. E adesso addirittura io li riconosco dall'ascensore. Cioè se sono arrivati, se salgo sull'ascensore, so che loro sono già passati e sono a casa. Ma non perché si mettano, non so, Paco Rabanne. Non perché stanno anche senza nessun profumo. Però li riconosco dall'odore. A me piace un casino questa cosa dell'odore. Trovo che parlando di pelle sia una cosa fantastica. E soprattutto quando lo penso per i figli, penso che sia una cosa fantastica. Cioè che è passato così tanto tempo, 16 anni nel mio caso, e che sono riuscita a riconoscerli dall'odore. Nicolò, questa cosa del contatto di pelle, tra due maschi tra l'altro. Cioè tra un ragazzo di 18 anni e un padre di... Tu quando hai arrivato a Sam ne avevi... Quattro anni fa, quindi 45 anni. Ah, tra l'altro abbiamo delle foto. Possiamo vedere così vediamo il ragazzo. Quale vedere dal cellulare, così? Ecco qua, se ne è solamente dalla De Filippi qua, però devo raccontare le foto. No, 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 semplicemente. Era solo per vederle. Ma se appunto quanto ci hai messo a dare una carezza? Giustamente Luciana dice un cammino, a giungo di Santiago guardando il prete, perché è un cammino lungo. E ormai poi è il coprotagonista della serata. Quella crocifisso che brilla, e quindi noi guardiamo, ce ne facciamo, ti prendiamo come riferimento. No, io ero in vacanza il primo anno che è arrivato Sam, tra l'altro c'era la mia amica Romina che è qua anche stasera, e a un certo punto, ed era la sua prima vacanza insieme a me, ed era una vacanza super protetta, perché ero insieme ai miei più cari amici che avevano scelto di fare con me questa settimana un po', come dire, anomala, no, anche di prova, perché lui era a casa mia da pochissimo tempo. E quindi a un certo punto l'ho mandato a letto come fanno i genitori, un po' verso le dieci e mezzo, l'ho mandato a letto. E noi abbiamo continuato a averci il nostro passito, non lo so. E a un certo punto Sam torna e si mette in braccio a me, ma era la prima volta che mi capitava questa cosa, ma non è che mi ha chiesto permesso, era come se non riuscisse a dormire, quindi è venuto a prendersi una braccia e si è addormentato sulle mie ginocchia. E mi ha fatto molta impressione, perché ovviamente io non mi ero addestrato a questa cosa, non avevo mai avuto lo spazio per imparare come si faceva. E lui poi è stato molto bravo, perché in realtà mi ha proprio educato a questo. Dunque abbiamo cominciato dei piccoli rituali che era quello di, per esempio, io mi dovevo ricordare di portargli tutte le sere un bicchiere d'acqua in stanza, perché per lui questa cosa era molto significante. Cioè vuol dire che tu ti ricordi di me, sebbene sia io a chiedertelo, se tu non ti dimentichi di portarmi l'acqua significa che hai un pensiero per me prima di andare a dormire. Adesso è inutile dirti che a 18 anni ha una fidanzata con due tette meravigliose e gliele porta lei l'acqua e non vuole un anzi. Quando gli ha detto così, scusami Luciana, se prendo questa confidenza, mi dicevo, oh ma... direi che è descrittivo. Però mi chiedevo... Io sto guardando intanto la foto di Luciana. Il figlio, adesso ti faccio dentro. Sono belli, infatti meno male che... Non li ho fatti io e per quel... No, no. Per fortuna non mi sono... E infatti volevo lacciarmi a questo, magari partiamo da Elena. L'imbarazzo. Vergogna, io l'ho chiamata prima, ma forse imbarazzo ha più senso. Se prendo me e la mia storia, l'imbarazzo c'è stato, c'è in diverse forme e su diversi argomenti. Perché? Perché arrivano le domande, perché ci si fa delle domande, no? Quindi immagino che anche, specialmente Elisa, non la più grande, inizi a avere delle questioni irrisolte e magari appunto si affrontano anche delle questioni che ti mettono in vergogna, ti mettono imbarazzo e che fanno scattare delle cose. Come si affrontano questi temi? Come li affrontate voi? Cioè, non stai aspettando però una formula, vero? No, no. Perché non esiste. Allora, posso dire che in realtà, più che la mia più grande, che in realtà ha un'origine etnica latina e quindi ha i caratteri somatici latinoamericani, diciamo, le esperienze più caratteristiche effettivamente riguardano l'altra, che è con noi, come avete capito, solo da tre anni, ma che appunto ha caratteri molto più visibili, molto più evidenti. e quindi già alla scuola materna ci sono dei bambini che le dicono ma tu sei cinese. E lei non capisce, innanzitutto perché non riesce a contestualizzare che cosa significhi essere cinese. Quindi torna a casa e mi dice mamma, ma mi hanno detto se sono cinese. E io le ho detto e tu Nina che cosa hai risposto? No, io le ho detto che vengo dal Vietnam perché il mio popolo è il Vietnam. Brava Nina. Poi successivamente l'ha rielaborata e ha detto no mamma, ho risposto che sono italiana, ma sono nata in Vietnam perché il mio popolo è in Vietnam. Quindi ha elaborato un passaggio successivo. e poi successivamente appunto stanno avvenendo tutte le sue notazioni riferite anche agli occhi, quindi l'occhio a mandorla, no? Mamma, ma mi accorgo che i tuoi occhi non sono proprio proprio uguali ai miei. Dico no, Nina, i tuoi sono bellissimi, i miei sono abbastanza banali. E allora lei dice mamma, io ho gli occhi a mandorla. E quindi piano piano anche lei si sta riconoscendo, no? Nella sua diversità sta trovando delle formule, delle parole. E volevo rispondere in realtà a una cosa che hai detto prima che a me tocca moltissimo. Cioè rispetto al fatto che questi figli non hanno chiesto di venire con noi. non siamo stati noi che abbiamo deciso. Cioè c'è stata una decisione di altri. Qualche anno fa ho visto il film su Steve Jobs che si chiama Jobs. Non so se qualcuno di voi lo ha visto. Un film bellissimo con dei dialoghi tra l'altro serratissimi molto densi. E c'è un passaggio in cui a Steve Jobs chiedono, interpretato da Michael Fassbender, non so se appunto qualcuno di voi l'ha visto, chiedono ma perché sei così ancora arrabbiato? Perché sei così, perché non riesci a mettere un punto su questa cosa della tua adozione? Steve Jobs è stato adottato da piccolo. E la risposta che lui dà in questo film è perché qualcun altro ha deciso per me in un momento della vita in cui io ero troppo fragile, troppo piccolo per decidere per me stesso. e lui risponde è la questione del controllo. Io non sopporto che qualcun altro abbia controllato la mia vita quando io non potevo. Ed è la ragione per cui poi Steve Jobs come dire ha manifestato anche delle intemperanze, ha avuto un carattere piuttosto particolare, penso che è passato alla storia per questo e poi anche le sue genialità. Però io tante volte mi sono interrogata rispetto al fatto che le mie figlie si confronteranno con un riconoscimento di un'identità e di una famiglia che non necessariamente hanno scelto. E quindi quello che io posso fare semplicemente è cercare di essere la mamma migliore che posso provare a essere. Magari non quella che avrebbero scelto da sole, magari non la perfetta, la mamma perfetta non però ecco che possano trovare in me una mamma capace di amarle così come sono con le loro diversità con le loro caratteristiche e che non possano sentirsi mai in imbarazzo per questo. Ecco. però tu non pensi anche dall'altra parte che è vero che loro non hanno scelto però è vero che il destino ha voluto così cioè perché sono arrivati Nina e Elisa potevano arrivare Martina e Francesca o Ludovica e Gina per dire e quindi se sono arrivati da voi loro c'è qualche senso lì. Certo. No. E quindi anche questa cosa qua a me cioè forse io penso di più a questo penso che che il destino voluto così è figo così basta. sì anche se noi non abbiamo deciso e io cerco di esso alvere al meglio a questo grande regalo che la vita mi ha fatto insomma ecco in modo tale che loro non possano mai sentirsi in imbarazzo per questo ecco. Sabrina invece nella tua realtà di figlia due mamme due realtà due mondi l'imbarazzo c'è stato è sotto quale forma e come ti senti insomma quale ti senti sia la forma migliore che che te lo fa affrontare diciamo diciamo che l'imbarazzo c'è ogni volta che è una situazione di affido in cui però si rimane in contatto con la madre biologica c'è ogni volta che nelle domande degli altri nelle parole degli altri ci sono delle supposizioni che ho delle curiosità a cui devi necessariamente rispondere però che non hanno i giusti filtri no? magari vabbè ma chi vuoi più bene alla tua madre biologica o alla tua madre affidataria però alla fine la madre è più una o più l'altra o il fatto magari di dovermi sentire in imbarazzo nel dover ammettere agli altri ma poi col tempo magari in passato anche a me stessa che ho creato un rapporto di pelle molto più profondo e umano come madre Antonietta la madre che mi ha cresciuto e Elena ha appena detto una frase che condivido tantissimo che ha detto che una madre cioè che le proverà di essere ma sono sicura che lo stai facendo al 100% una madre capace di amare e di ascoltarti no? e mia madre Gladys però magari anche per una serie di cose che io descrivo meglio nel libro di quanto possa farlo a voce che nel tempo mi hanno anche un po' ferita e cambiata proprio quando si parla di destino no? che io forse sarei cresciuta sarei data tutta un'altra persona crescendo con mia madre Gladys mentre con mia madre Antonietta io ho avuto proprio l'opportunità di sentirmi amata capita e automaticamente non giudicata perché a me piace scrivere a me piace la letteratura mi piace un certo mondo e quando provo a condividerlo con mia madre Gladys queste cose faticano tantissimo a venire fuori mentre mia madre Antonietta non mi chiede nemmeno il perché capisce che a me piace che lo faccio e le va bene magari la cosa proprio la cefiggina sulla torta è proprio il fatto che magari avendo due madri hai il doppio delle telefonate ogni giorno quando parti quando sei in treno dove sai che cosa fai però è più l'imbarazzo che mi crea che mi crea il mondo esterno che mi mette di fronte a delle scelte o a delle supposizioni che loro fanno su come tu abbia vissuto all'affido o quella che pensano essere un'adozione ma in realtà non lo è però io non io l'ho sempre tirato fuori con un estremo orgoglio vuol dire no ma io ho due mamme no ma io sono adottata sono affidata ho una famiglia in Nigeria un'altra famiglia a Napoli è più una cosa della quale ho sempre tirato fuori tantissimo in maniera forte mentre forse è l'unico pelo di imbarazzo non ha tanto a che fare con mia madre Antonietta quanto la questione che ti spiegavo anche prima di mia madre Gladys e del mio papà biologico perché dall'esterno parliamo comunque di due persone che stavano insieme non erano sposate hanno avuto una bambina che lui non voleva e dunque lui decide di prendere un'altra strada e non fare questo riconoscimento io incontro mio padre la prima ed unica volta quando ho 13 anni e quando lo incontro e vado in Francia scopro che lui si è sposato altri 3-4 bambine ed è quella famiglia tipo del mulino bianco perfetta madre-padre e tutti contenti poi sono passati quasi 10 anni da da quell'incontro oggi mia madre Gladys è sposata ha un'altra bambina che è di un anno due giorni fa ha compiuto un anno e anche lei ha la sua famiglia del mulino bianco quindi più che altro io più che imbarazzo mi sento fuori luogo e mi faccio magari un sacco di domande perché penso che entrambi i miei genitori hanno il loro ideale di famiglia perfetta o comunque l'ideale che viene più normalizzato di famiglia perfetta io non faccio parte di nessuno dei frangenti non sono né con mio padre in quella famiglia lì né nella famiglia di mia madre mi sono creata mi sono dovuta creare sono stata accolta dal mio ideale di famiglia che è quello che vede mia madre Antonietta che vede i miei zii i miei nonni e tutti i miei cugini tutti quelli intorno a me che da una parte mi fa sentire un po' un outsider ma dall'altra parte mi fa sentire molto ricca perché ci mi sono trovata in una parte in un momento del destino che è tutto mio e che posso iniziare a scrivere da ora fino alla fine Sabrina tocca un argomento che mi sta molto a cuore per quello che faccio che è che storia che storia ci raccontiamo di noi stessi no? cioè tu dici tu hai appena detto che hai visto due storie tuo padre da una parte tuo padre biologico tua madre Gladys dall'altra con questa famiglia che è una storia che conosciamo tutti infatti tu hai chiamato la famiglia il mulino bianco perché è quella storia che noi tutti riconosciamo per quelle pubblicità poi erano della famiglia perfetta con la casa che aveva un mulino proprio giusto? aveva un mulino in campagna anche quella delle gocciole che erano tutti fortunata che lavoro in televisione pensai come sono rincoglionita pensai come sono cascati male Migu dicevo quella delle gocciole che erano tutti Tarzan esatto lì c'era un racconto di una famiglia perfetta della savana tutto sommato non della campagna ma non esiste niente di perfetto no no certo insomma infatti la pubblicità è tutto per dire che mi è capitato prima dell'estate di fare un piccolo workshop con dei ragazzi per far raccontare delle loro storie e c'era questa ragazza che aveva la pelle un po' più scura degli altri e a un certo punto quando chiedo di raccontare le loro storie lei racconta di essere stata adottata da una famiglia guatemalteca cioè lei è di regina guatemalteca adottata da una famiglia a Vicenza eravamo in Veneta e lei dice mia mamma mi leggeva sempre questa storia che era la storia della mamma di cuore e la mamma di pancia e quindi mi diceva io sono la mamma di cuore e poi c'è la tua mamma di pancia e lei mi raccontava questa cosa un po' mi tranquillizzava però un po' mi inquietava perché nella storia la mamma di pancia tornava a prenderla la bambina del racconto e quindi lei era come se comunque diceva sì sono con la mamma di test di cuore di test però prima o poi tornerà l'altra al punto che poi a un certo punto lei ha detto voglio andare in Guatemala mi faceva ridere perché era come Nina che dice il mio popolo è fiera di essere vietnamita no? e invece dice sono andato in Guatemala ho detto ai miei andiamo in Guatemala e sono stati là un mese ha conosciuto la suora che l'aveva cresciuta che adesso si era desuorizzata chiedo al prete come si dice e si era sposata insomma una storia nella storia tutto per dire bisogna davvero costruire per i propri figli una nuova storia un nuovo racconto ma non è che lo devi così si costruisce sono cose che succedono che accadono e che quindi non le puoi prevedere devi seguire un po' la rotta devi essere nell'affido perlomeno resiliente come dicono no? saperti adattare saperti modificare come quando il navigatore dice ricalcolo percorso ricalcolo percorso che torna indietro ricominci da capo e quindi non c'è un percorso definito e soprattutto non procede regolare procede a scatti magari vai velocissima e dici oh madonna quanti ostacoli ho superato vado velocissimo poi a un certo punto si ferma e dici ma cos'è sta mosceria proprio un fermo immagine poi dopo di nuovo va avanti e poi ci sono i conflitti e poi ci sono i momenti invece di di gioia di armonia assoluta ma credo che siano cose della vita che si scrivono appunto facendole c'è una cosa che ti ho sentito raccontare in cui c'entra anche Maria De Filippi perché tu avevi il dubbio che avendo tu una riconoscibilità in Italia potesse essere potesse mettere in difficoltà questi ragazzi giusto poi invece lei ti ha detto ma figuate sei cattina no così pensavo perché lei ha prima di me aveva già un bambino in affido Gabriele che poi adesso ha adottato con Maurizio e quindi mi aveva raccontato come aveva fatto tutto il percorso e insomma mi aveva tranquillizzato poi quando sono arrivati Giordano e Vanessa io ho fatto una diffida a tutti i giornali di pubblicare le loro foto e poi non parlavo quasi mai di loro cioè cercavo di proteggerli più possibile poi adesso appunto ho raccontato questa esperienza nel libro un po' perché perché poi ci sono delle urgenze a un certo punto tu dici bene adesso basta adesso questa cosa qua la voglio mettere sulla carta raccontarla insieme a loro perché loro ovviamente mi dicevano questo sì questo no e poi anche per dire agli altri ma si può fare perché no perché è difficile ma tutto è difficile perché poi dopo se non ce la faccio tu hai avuto un'esperienza di non ce la faccio e subito dopo ne hai avuto un'altra di ce la faccio perché la vita è fatta così anche no e anche il fatto che tu ti devi abituare un po' a scricchiolare cioè passi la vita a scricchiolare quindi all'inizio ti sembra che sto scricchiolio ti faccia paura e poi dopo ti abitui a scricchiolare quindi anche scrivere il libro mi è servito per dire ridiamo senso a questa a questo istituto dell'affido perché in questo momento di chiusura di lockdown di paura di difesa di pelle che si restringe forse vale la pena pensare invece di fare il contrario di aprire e fare spazio nella casa anche solo per un tratto di strada adesso noi abbiamo avuto questa esperienza che sta durando ma a volte ci sono degli affidi che iniziano e poi finiscono ogni affido è diverso da un altro e quindi ognuno ha una sua storia da raccontare che racconta facendola io penso che sia una bella esperienza e che tutti possiamo pensare di farla con gli strumenti che abbiamo l'importante è essere generosi morbidi elastici che io non sono tanto vorrei collegarmi a quello che ha detto Luciana per chiedere una cosa Nicolò e poi andiamo verso la chiusura della serata ringraziandovi tutti Nicolò ti faccio una domanda che di solito si fa a quelli che fanno le grandi avventure tipo che attraversano l'oceano da soli a remi tu single appunto anche se la prima volta avevi una compagna comunque da solo scegli di fare un affido perché da dove arriva te lo sei mai domandato serve domandarselo e se lo hai fatto che risposta ti sei dato sì velocissimo sono super d'accordo nella conversazione precedente sul destino cioè io mi trovavo a condurre un programma televisivo dove avevo approfondito il tema dell'affido e una psicologa che mi stava aiutando nella gestione di questo programma aveva letto un mio romanzo di qualche anno prima e aveva intercettato in me la possibilità che io potessi essere un aiuto per questo ragazzo di cui prima vi parlavo è ovvio che sono delle coincidenze astrali che si mettono lì ma tu hai già fatto la valigia per essere in quella stazione dove passa il treno è chiaro che se la valigia dentro di te non l'hai mai fatta e arriva alla stazione e passa il tuo famoso treno storico probabilmente non ci sali perché non ti senti pronto e dunque credo che istintivamente da qualche parte in me c'era la possibilità di diventare papà perché l'ho fatto appunto un po' per assecondare le onde del destino un po' perché sono sempre stato mi sono sempre considerato malgrado le mie tempeste una persona molto fortunata e privilegiata sono stato amato credo più del più del necessario mettiamola così sono stato amato e avevo una grande quota di bene che mi andava di rimettere in circolo e poi d'altro canto ho sempre desiderato e in questo Sam mi è stato molto d'aiuto derubricare il dolore mi piacciono le persone che conoscono il dolore ma che ci surfano sopra trovo che sia un ottimo modo per sopravvivere agli scricchioli e quindi io e Sam ci siamo detti dal primo giorno che la sua prima parte di vita era una parte certamente infetta di ingiustizia e di dolore ma che da lì in avanti ci saremmo insegnati a vicenda rispettando il dolore ma anche a prenderlo un po' per il culo e ho vinto quando una volta l'ho portato a fare una visita nefrologica e questa simpaticissima dottoressa ha detto ma una mamma non ce l'abbiamo e lui gli ha risposto sono figlio di Amazon allora lì ho vinto e io quindi ho un'ultima domanda per tutti e chiedo vista la mia esperienza da genitore non lo so quanto lo consiglierei così per essere sincera io voglio essere onesta e sincera il nostro figlio ci dà da fare ma come tanti quindi mi chiedo qualche posizione in preso di chiusura perché è d'accordo anche lui non lo consiglierebbe voi invece non è che vado in giro a sponsorizzarlo fate dei figli tanto la gente fa lo stesso però vero Romina lo consigliereste l'affido dopo la tua esperienza lo consiglierei sì con riguardo nel senso che è vero siamo capaci a farlo nessuno porta più del peso delle spalle che gli sono state concesse certo è che per fare un genitore affidatario almeno come nel caso non è proprio una passeggiata di salute ci sono dei ragazzi tutti i ragazzi che vanno in affido perché sono stati tolti dalla famiglia naturale biologica perché ci sono stati dei problemi quindi si portano dietro una giberna ecco quella giberna occupa uno spazio che poi tu anche da genitore affidatario te lo becchi addosso e non sai cosa fare quindi stai lì e aspetti che questa roba passi non è che c'è tanto da da pensare da strutturare da organizzare niente ogni tanto arrivano le bufere loro precipitano nel buco tu li tieni in questo buco ogni tanto ti tirano giù diciamo adesso vado anch'io nel buco no 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 aspetta aspetta stai su signor Bigiute stai su e poi dopo un po' passa perché per fortuna passa ma anche nei figli naturali dopo un po' non è sempre uguale cioè ci sono i periodi buoni e i periodi meno buoni e con i ragazzi in affido devo dire ci sono tanti meno buoni però ci sono anche quelli buoni e poi arrivano e si alternano sei convinto compriamo si alternano ma vedete che adesso voi avete il bimbo piccolo faticoso tutta quella roba lì ma poi dopo crescendo è un'altra roba adesso passate la bufera ma poi andando avanti ne farete un altro saremo di nuovo qua lo dicono adesso ho imparato che dicono tutti così col cavolo che mi faccio fregare sì no ma poi ti dicono vabbè uno due è la stessa cosa no col cavolo ho capito di non finarmi più Elena consigliere allora sicuramente è un'esperienza che ti mette più che alla prova con un trauma o comunque con una fatica con la dimensione dell'attesa nel senso che nell'adozione voi sapete benissimo che c'è questa dimensione dell'attesa che è molto faticosa nel senso che è un tempo molto lungo tra il momento in cui si desidera diventare genitore e il momento in cui questa cosa accade poi abbiamo detto che quando accade accade subito però la gestione dell'attesa è un'attesa silenziosa vuota senza segnali devo dire che è abbastanza faticosa però quel momento di incontro quel momento di abbraccio quel momento in cui appunto ti mettono tra le braccia il tuo bambino davvero è qualcosa di magico davvero capisci che si può diventare madri e padri a prescindere dalla somiglianza a prescindere dalla pelle a prescindere dal sangue e questa cosa succede in quell'istante e quindi direi che è un'esperienza fortissima che per fortuna che esiste ancora insomma ecco per te Sabrina è un po' diverso ma la domanda è la stessa potendo parlare una Gladys del futuro le consiglieresti sapendo quello che è il tuo sentimento il tuo stato e come è mutato le consiglieresti di fare le stesse scelte stai bene con le scelte che sono che ti sono arrivate sì no io sto bene nel senso se sto male sto male per altro sto male per delle altre conseguenze ma io mi rendo conto di stare benissimo in una situazione in cui mi trovo nella famiglia che mi ama e che mi ha con sé ok non così bene e più che altro io non ho figli il consiglio non posso darlo però da figlia mi sento veramente di dire che oggi forse non a livello dicono le statistiche in Italia le statistiche ci dicono che abbiamo bisogno di fare più figli ma io sentimentalmente sento che abbiamo bisogno di più genitori soprattutto di genitori come questi che ho che ho accanto in questo momento perché le vostre parole mi hanno riempito un sacco mi hanno arricchita tantissimo perché in ogni frangente in ogni momento un po' pensavo a come è stato per mia madre Antonietta avermi consigli per la primissima volta c'è in questi momenti magari potevo anche riflettere sul fatto come la questione dell'odore no io ricordo che quando ero molto piccola tipo abbracciavo mia madre Antonietta tipo andavo alle scuole alimentari e magari non mi riconoscevo nel suo odore no e pensavo avevo paura che fumassi più dell'altra mia mamma e non di mia mamma Antonietta e lei mi abbracciava e mi diceva no perché ho usato un altro bagno schiuma perciò non abbiamo lo stesso odore però sì ad un certo punto oggi stasera ho capito che abbiamo veramente bisogno di genitori in tutte le salse diverse in qualsiasi momento anche che non siano per un affido legale o un'adozione abbiamo bisogno tutti di un genitore che poi diventa una casa e ti ringrazio ti ringrazio e chiuderei con questo perché figli non uguali a genitori questo progetto nasce per questo perché secondo me determinate cose le possiamo imparare solo ascoltando le esperienze diverse dal nostro e cercare di capire qualcosa in più di noi e di di quello che è appunto qualcosa che magari vediamo anche troppo da vicino magari vedendolo da un punto di vista un pochettino più lontano una prospettiva diversa capiamo ci riconosciamo e stiamo anche un po' meglio stiamo anche un pochettino più sereni vorrei ringraziarvi parto con Niccolò Agliardi grazie mille Luciana Litizzetto Elena Goretti e non voglio dirlo mai e Fionai Sabrina grazie Matteo Caccia grazie a voi grazie al circolo dei lettori e a questa splendida iniziativa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti